Con l'impegno quotidiano, con lo studio, con l'applicazione delle regole del network marketing che ho imparato durante il corso del mio percorso, scusate il gioco di parole, utilizzando i social in maniera corretta, si impara anche quello, seguendo i consigli del mio sponsor, che ne sapeva più di me e ancora oggi ne sa tanto più di me, ascoltando le persone che avevano fatto grande carriera in questo business. I grandi leader di Gigos mi hanno insegnato come diventare EU leader. No, dove l'hai letto questo fatto? Il mio coach è sempre Lino Gentile, insieme ad Andrea Rinaldi. Lino si preoccupa della parte medica, di farmi la scheda, la dieta, di controllare tutti i miei valori, mentre Andrea invece si preoccupa del mio allenamento in palestra e quindi si preoccupa di farmi eseguire correttamente tutti gli esercizi che Lino mi assegna. Allora ho mangiato alle colonne dalla marziale e poi basta, credo che in ristoranti stellati non ci sono andati. Avevo tanta curiosità di andare da Cracco a Milano in galleria, poi non sono più andato a Milano. Ci andrò. Siamo nel pieno del peggio, nel bel mezzo della tempesta, amici miei, come vi avevo predetto due anni fa, ma non perché io avessi la palla di vetro, basta un minimo di spirito critico. Sempre, a qualunque costo, questa è una cosa che mi è stata insegnata da mio padre, dire sempre quello che si pensa, con gentilezza, con ironia, talvolta con cinismo, ma dire sempre quello che si pensa. È certo che ho conosciuto il grandissimo Enzo Cannavale. Tra l'altro il figlio, uno dei figli, Alessandro di Enzo, mi ha fatto emozionare perché mi ha detto che ha trovato in un vecchio cassetto del padre un mio bigliettino da visita, con sopra scritto Fabio Brescia, attore San Nazaro, perché lui non si ricordava i nomi delle persone. Era un tipo un po' distratto Enzo, viveva in un mondo tutto suo, il signor Cannavale. E io mi ricordo che quando feci festa di Montevergine con lui e Luisa Conte, lui tutte le sere, dietro le quinte, mi chiedeva Buonasera, come vi chiamate? Mi dava il voi, lui a me mi dava il voi, incredibile. Come vi chiamate? Signor Cannavale, mi chiamo Fabio Brescia. E dove abitate? Abito ad Aversa, perché all'epoca abitavo ad Aversa. E come fate a venire qua? E signor Cannavale, ho una panda. All'epoca ero giovanissimo, c'avevo il pandino bianco, la mia prima macchina, che veneva 19 anni. La sera dopo, buonasera, buonasera signor Cannavale, come vi chiamate? Fabio Brescia. Ah, e dove abitate? Signor Cannavale, ad Aversa. Dopo tre, quattro sere che mi chiese la stessa cosa, andai dal direttore di scena, da Franco Petroni, e dissi, ma Cannavale tutte le sere mi chiede il mio nome, come mi chiede? Ma mi vuoi fottere? No, disse, eh, Franco Petroni, quello si dimentica. Cannavale era un poeta della recitazione. Era il grande poeta della recitazione. È stato immenso. Pensa che io non ho mai smesso di vivere, a costo di farmi un sacco di nemici, nemmeno per un giorno, mai smesso di vivere. E sono due, ma dove l'avete letto? Avete letto da qualche parte che ho interrotto l'allenamento col mio vecchio preparatore? Il preparatore è Lino, l'esecutore della preparazione, Andrea. Io ti ringrazio infinitamente. Grazie, sono molto contento di trasmettere questa positività, perché in questo momento ce n'è veramente grande bisogno. E quindi ti abbraccio forte e ti ringrazio. Non esiste nessuna destra, siete degli illusi. Non esiste destra, non esiste sinistra, non esiste centro-destra e non esiste centro-sinistra. Sono tutti la stessa chiavica, sono tutti al servizio delle case farmaceutiche, sono tutti prezzolati, chi più chi meno. Poi ci sono quelli che ogni tanto fingono di fare la voce grossa e di avere a cuore la libertà dei cittadini. Scordatevelo, non è vero niente. Ma voi lo sapete che questo governo, centro-destra e centro-sinistra insieme, ha votato perché la commissione d'inchiesta sui morti di Bergamo non riguardasse né il governo e né la regione Lombardia? Voi lo sapevate? No. E voi vi dovete informare, tesori belli, perché sono tutti la stessa chiavica. Loro, le case farmaceutiche, chi copre tutti gli interessi che ci sono dietro questa situazione, tamponi, mascherine, vaccini, gente che ha fatto strazzi nel governo Conte, che è stata cacciata a calci in culo e che sta rientrando dalla porta di dietro. Non esiste nessun centro-destra così come non esiste nessun centro-sinistra. Esiste una poltiglia informe che ci porterà a schiantarci peggio di come già stiamo. Va bene, ma Carciofara è una cosa che dicono tutti quelli di centro-sinistra a Giorgia Meloni pensando di offenderla. Ora, io non è che devo fare il difensore di Giorgia Meloni, ma la sinistra, che prima era il partito del popolo, ritiene che chiamare una persona fruttivendolo sia un'offesa, perché la sinistra non è più il partito del popolo, ma è il partito delle elite. E di conseguenza pensa che chiamare una persona carciofara e quindi fruttivendola sia offenderla, perché la sinistra ritiene che il popolo sia la merda. Questo è. Nessuno. Ma infatti il vaccino non è obbligatorio. Faranno in modo da farci vaccinare tutti lo stesso, limitando le libertà personali, senza comunque prendersi le responsabilità, perché gli effetti collaterali ci sono, ci sono stati e ci saranno. E quindi loro, così, come non vogliono essere indagati sulle morti di Bergamo, così non vogliono essere rotti le scatole sugli effetti collaterali del vaccino. Mi si dirà che gli effetti collaterali ci sono anche con l'aspirina, senza ombra di dubbio. Ma l'aspirina non ti obbliga a prenderla nessuno. Me lo avete chiesto mille milioni di volte, che sono formidabili. La mia risposta è sempre la stessa. Che si affosseranno, non è oggi, non è domani, perché per lavorare in borsa e per giocare in borsa ci vuole una grande cultura dell'economia internazionale. Quindi magari non studiano a scuola, ma studiano altrove. L'importante è studiare. Sinceramente non lo so. Sto pensando di farlo settimanale, perché almeno ad agosto mi vorrei riposare. Anche perché mi chiedete sempre le stesse cose sui vaccini, sul covid, sulle cose. Io mi sono anche un po' stancato di parlare sempre di questo argomento. Allora ti spiego. Andando da Melito di Napoli verso Aversa, dopo Sant'Antimo, inizia Aversa. Sulla destra c'è una stradone che si chiama Viale della Libertà, detta Variante. Quella è la Variante. Io non consiglio proprio nulla. Si va da un professionista, si paga la visita, a seconda delle proprie esigenze e della propria fisicità, ci si fa consigliare da un professionista. Io non mi occupo di allenare le persone. Zero proprio. A stento sapevo che erano iniziate. Cavolo, tutti? Bene. Mi fa molto, 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 molto piacere. Ci sentiamo quindi a fine estate, quando li avrai letti tutti e mi farai la gentilezza di farmi un feedback su tutti i titoli. Sei molto gentile. Sei veramente molto gentile. Ti ringrazio infinitamente. Grazie. Ma Gigos non ha alcuna concorrenza. Ma tu stai scherzando. Gigos è il primo business al mondo. Gigos ha alla sua base l'oro 24 carati. Nessun altro business ce l'ha. E in questo periodo sta andando meravigliosamente bene, perché sono usciti dei nuovi strumenti per guadagnare e stiamo facendo bonus, soldi e oro appalate. E quindi ci dispiace, moltissimo. Ma insomma, continueremo ad avere il petto in fuori e la testa alta quando si parla di Gigos e quando si parla dell'orgoglio che noi proviamo a dire che facciamo parte di questa meravigliosa famiglia. Perché, come dice Vincenzo Russo, Gigos non è solo soldi, ma è anche uno stile di vita. Ed è per questo che non tutti riescono. Ed è per questo che non tutti quelli che iniziano completano il loro percorso. Ed è per questo che non è per tutti. E' solo per un determinato tipo di persone. E' perché questo non porta, come dire, non porta acqua al pensiero unico dittatoriale che stanno cercando di instaurare in Italia. Ma se anche la Merkel si dice contraria al Green Pass, ora che cosa dobbiamo dire? Che la Merkel è una pericolosa Novax? Intanto non lo dice nessuno. In Francia hanno fatto un passo indietro. E' evidente. In Gran Bretagna hanno aperto tutto e i contagi crollano. Perché Boris Johnson è un uomo indipendente. E' un uomo che si prende delle responsabilità e che ha saputo fare molto meglio di tutti quanti gli altri. Perché non è assoggettato ai diktat dell'Europa e quindi delle case farmaceutiche.